Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Cosa vi avevo detto qualche giorno fa? Aggiorniamolo. Vi avevo segnalato che per poter continuare a salire come effettivamente stiamo provando a fare e per arrivare oltre 10.500 dovevamo far partire appunto un nuovo T più 3 inverso. Per far partire un nuovo T più 3 inverso avevamo bisogno perlomeno di un T più 1 inverso ovvero un bisettimanale inverso, un sottociclo di due gradi inferiori lateral rialzista ovvero con una discesa o una lateralità in questa zona. Cosa stiamo facendo? Stiamo avendo la nostra lateralizzazione. Siamo arrivati ad avere un T più 1 laterale? Però no, manca un giorno. Siamo a 11 bar su minimo 12 che dovrebbero cercare di non superare questo massimo a 10.074 dollari. Qui siamo arrivati a 9.966, qua a 9.894 e via di seguito. Per cui, sempre parlando di inverso, ovvero di cicli che partono da massimi, sviluppano minimi e chiudono su altri massimi guardate qua che cosa interessante. Qui può essersi o chiuso qui un settimanale, un primo settimanale a 7 barre e un secondo, lo stiamo facendo adesso da questo massimo arrivato già a 4 barre e già vincolato, sì, a ribasso, ovvero a rialzo per bitcoin oppure se avessimo chiuso sul massimo di quest'oggi saremmo arrivati a 11 bar e quindi adesso bisogna aspettarsi ancora un po' di discesa e poi di nuovo risalita di indice. Tutto secondo piani. A questo punto facciamo anche un altro controllo su bitcoin stesso, lato che si chiama indice, in realtà è bitcoin. Siamo arrivati a 8 giorni. 8 giorni è la durata media per la chiusura di un settimanale. Abbiamo già un settimanale a rialzo, o una parte di esso, e quindi abbiamo già che sta partendo il nuovo T più 2 ciclo mensile che è arrivato appunto 8 giorni. Tutto quadra. Perfettamente. Come vi dicevo ci aspettavamo anche una ripartenza per quanto riguarda la media mobile a 50 periodi sta andando molto rapidamente a rischiare di fare un bel golden cross per cui faccio tanti auguri a chi vuole valutare degli short perché a mio avviso, come già detto, andremo piano piano nel resto della settimana a superare i 10.500 dollari, eventualmente anche domenica. Questo è il target, iniziamo a dare quello. Iniziamo ad osservare altre cose. Qui abbiamo un massimo a 9945 e uno a 9966, come detto, ovvero massimi crescenti da qua a qua e qui abbiamo la stessa identica cosa. Controlliamo. Massimi sono stati crescenti qua. Temo di no. Temo che abbiamo una fantastica divergenza ribassista. Eccola qua. Massimi crescenti, massimi decrescenti, divergenza di continuazione ribassista per cui mi aspetto che si continui a scendere. Si continua a scendere sia nel caso che il settimanale si sia fermato il primo settimanale inverso si sia chiuso su questo massimo per cui avrebbe bisogno di almeno due giorni di ribasso primo e secondo giorno anche domani ma anche me lo aspetto se fossimo... se si fosse chiuso qui su quest'altro massimo e se fosse partito il secondo t settimanale inverso da qua con uno, due, tre, quattro giorni che sono andati a salire e poi eventualmente un quinto che mi fa da partenza di secondo t-1 inverso secondo metà ciclo settimanale inverso che richiede perlomeno un pochino di discesa magari anche soltanto un aggiornamento di questo minimo a 9451 per dire 9459 49, 38 ok? e poi di nuovo ripartenza dal suo alto per cui quadra tutto anche nei due casi parentati in precedenza ovvero per domani c'è la possibilità che si provi a giornare questo minimo a 9451 e vadano dove vogliono anche a 9333 dove volete ok? ma che successivamente si riprenda dopo aver fatto una condizione minima di ribasso per far partire eventualmente anche soltanto un secondo di inverso secondo settimanale inverso da massimo a massimo si ritorni poi piano piano a salire e a superare come detto prima i 10.074 dollari successivamente andare in direzione 10.500 dollari questo è quanto punto di attenzione fondamentale sul grafico giornaliero questo minimo a 9.112 dollari se si andasse a rivelare questo minimo a 9.112 dollari cambierebbe un attimino la faccenda e ci vorrebbe più tempo prima di tornare sopra i 10.500 dollari ma se andate poi su un grafico a 4 ore o 1 ora potete trovare degli swing che sono molto più rapidi che vi dicono molto più rapidamente se la situazione può cambiare rispetto a quella parentata per cui se queste informazioni questa analisi è stata interessante diffondetele queste informazioni perché vi stanno facendo guadagnare probabilmente parlate negli amici ai trader alle altre persone che magari non mi conoscono ancora perché sul canale è vero che siamo arrivati a più di 450 persone in due mesi e parliamo di mercati finanziari non di come mettersi il rossetto o fare gli influencer un po' diverso come cosa non come spendere soldi ma come guadagnare per cui se l'analisi vi è piaciuta mettete un like sotto l'analisi stessa eventualmente è una bella pacca sulla spalla che potete darmi per tutto il lavoro gratuito che faccio per chiunque faccia trading su bitcoin eventualmente sottoscrivete il canale cliccate sulla campanellina in modo da sapere quando esce la nuova analisi probabilmente da domani pomeriggio ritornerò anche su trading view ma non penso che parteciperò più alle chat intanto non serve a nulla sostanzialmente la polemica non ci serve ci servono i trade corretti e questo è quello che voglio darvi questo è quanto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata